E' tardi amici, è davvero molto tardi che faccio questo mio intervento quotidiano, ma mi sono attardato, e consiglio a tutti voi che avete il computer di andare a recuperarlo, ad ascoltare l'intervento di Matteo Renzi nell'Assemblea del Partito Democratico. Ascoltarlo, rifletterci sopra, perché non ha detto affatto delle sciocchezze, ha sottolineato molti aspetti che mi piacerebbe davvero poter dibattere anche qui con voi in seguito a questo mio video, quindi andate a recuperare in streaming quello che ha detto sino a mezz'ora fa Matteo Renzi e poi magari ne parliamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.